Buonasera e ben ritrovati. Siamo praticamente agli sgoccioli di questo 2022, manca esattamente una giornata, quella di domani e poi stapperemo le bottiglie e innalzeremo i calici per dare il benvenuto al 2023. E proprio durante queste feste si rincorrono un po' i dati, le chiusure annuali in tema di bilanci e lo facciamo anche noi. Dove? Nel carello della spesa da una parte, a livello di consumi dall'altro, sicuramente la guerra in Ucraina pesa, inflazione, bollette, l'impatto delle bollette del caro energia sugli italiani. Ma come hanno passato gli italiani il Natale e come affronteranno anche questi giorni di festa con un'economia che ha tenuto, sicuramente sotto il profilo del turismo, che c'è stato un boom, si è tornato. Non ai livelli quelli pre-Covid, ma sicuramente questo 2022 è stato superiore ai due anni precedenti. Piccolo incremento dei consumi del 4,5%, proviene dalla trasformazione dell'eccesso di risparmio accumulato durante la pandemia in maggiori consumi. Tanti rincari, ne abbiamo parlato, spesso anche con i nostri ospiti questa sera. Io li trovo con molto piacere, diciamo, io da un po' rompere le scatole, quando sono questi argomenti, però lui ci dà sempre un quadro molto completo. E per la Cordiretti c'è Francesco Giardina, a cui do la buonasera. Buonasera, salute a tutti. Con noi c'è anche il Polito Spadafora, che si occupa di vini dal 1915, una grandissima casa vinicola della Calabria dal 1815, esportatore in tutto il mondo. Insomma, ne parleremo in maniera approfondita e do la buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. E allora, andiamo un po' a introdurre quello che è il concetto, visto che, insomma, di servizi ce ne sono diversi. Il Natale ha portato 20 miliardi di consumo, ma sicuramente è in calo. E allora, andiamo a fare un po' il punto della situazione, così commentiamo insieme. Dagli alimentari ai viaggi Natale e Capodanno salati per gli italiani, tra inflazione alle stelle, caro bollette, le festività natalizie di fine anno saranno all'insegna dei rincari e, a parità di consumi, determineranno per le famiglie una nuova stangata. Il quadro è disegnato dalle associazioni dei consumatori che, dopo la pubblicazione dei dati definitivi Istat sul tasso di inflazione, lanciano l'allarme feste. Il Codacons avvisa che pranzi, cenoni, ristoranti, regali, tutto costerà di più questo Natale, stimando in 612 milioni di euro la maggiore spesa degli italiani solo per cibi e bevande nel corso delle prossime festività. Mentre Asso Utenti, che ha realizzato un'apposita indagine sulle vacanze di fine anno, rileva come per viaggiare in Italia o all'estero durante le feste la spesa sarà più elevata a causa dei rialzi dei biglietti aerei, delle tariffe di hotel e strutture ricettive. Inoltre, mettere la carne in tavola a Natale costerà in media il 10,5% in più, analizza il Codacons, con punte del più 18% per il pollo, mentre per un pranzo a base di pesce la spesa sa di media del 10%. Per i dolci poi occorre mettere in conto una maggiore spesa del 49,6% per lo zucchero e anche brindare costerà di più. Il vino infatti rincara del 6%, mentre i liquori salgono del 5,5% e lo spumante segna un più 7,3%. Giardina, inizio con lei. Dicevamo anche in altre puntate, in altre trasmissioni ovviamente su Cusone Italia TV, come la spesa si è aumentata, come alla fine il cadello della spesa si è aumentato e troviamo prodotti rincarati da tutta una serie di situazioni. Però gli italiani hanno preferito comunque spendere meglio, magari mangiare un po' meno, però con prodotti di qualità, tenendo in alto quello che è il nostro Made in Italy. Questo è un po' il quadro della situazione, anche se gli italiani effettivamente hanno risposto molto bene. Ricordiamoci che questo è un Natale, il primo dopo due, dove gli italiani hanno sofferto particolarmente. Quindi nonostante i prezzi e nonostante l'aumento dei costi della vita, c'era una gran voglia di tornare a sedersi a tavola. Noi abbiamo nei nostri dati registrato una media di tavolate di otto persone, quindi c'era proprio tanta voglia di stare insieme e di consumare le nostre eccellenze. I dati hanno dimostrato effettivamente un incremento del giro d'affari, anche proprio per l'agroalimentare. Noi abbiamo segnato appunto cifre estremamente importanti e ricordiamo che veniamo fuori da un anno molto complicato anche per quel che riguarda tutta la situazione produttiva. Le nostre aziende escono da una situazione drammatica sia per quanto riguarda il clima, quindi con riduzione delle rese e poi anche tanti aumenti dei costi dovuti per esempio all'energia e a tutta la situazione dovuta alla guerra dell'Ucraina. Quindi siamo veramente in un anno che era molto complicato per tutte le famiglie, per tutte le imprese, però possiamo dire che invece è prevalza sicuramente la voglia di stare insieme e di consumare del cibo buono a tavola che poi è quello che caratterizza molto noi italiani, il voglia di stare insieme e a tavola riusciamo veramente a tirar fuori il meglio dello stare insieme e del vivere in famiglia. Allora innanzitutto andiamo sulla parte alimentare che vuoi dire insomma l'82% degli italiani faranno un cenone di fine anno con le lenticchie che vanno tanto di moda, quindi discorso anche green dell'utilizzare quello che sono gli avanzi di questi grandi pranzi e cene 24 e 25, ma quello che volevo sottolineare di qualche giorno fa è che voi dite niente regali per un italiano su sei per i doni spesi in media a 170 euro a testa, qui praticamente cala, cioè mentre la parte alimentare è rimasta comunque di qualità, diciamo che si è fatto allora un regalo in meno sotto l'albero, è così? Sì, purtroppo stiamo segnalando sempre di più una grossa differenza che c'è tra, si sta creando probabilmente una situazione di grande ricchezza e di grande povertà purtroppo e quindi in queste feste noi abbiamo voluto ricordare appunto anche andando un po' a contare e assegnare quelle che sono le situazioni un po' a rischio di povertà e in Italia sono ancora tante, quindi è sempre bene ricordarle e fare attenzione. I nostri mercati di campagna amica per esempio per questa situazione hanno attivato quella che è la spesa sospesa, cioè la possibilità nei diversi mercati di, come si fa a Napoli, lasciando il caffè sospeso, quindi lasciando una spesa da dedicare poi alle associazioni di volontariato che poi lo hanno portato e le hanno consegnate alle famiglie più bisognose. Sono tanti, sono tanti tra l'altro anche bambini, anziani e extracomunitari, quindi è una fetta importantissima della popolazione e non bisogna lasciare nessuno indietro, quindi anche queste persone è bene sempre appunto ricordarsele e lei diceva la situazione dello spreco, anche quello è un modo, il non buttare il cibo è un modo anche per cercare di mantenere un'economia diciamo così più sobria, più che guardi un po' a tutti. Tanti appunto sono le possibilità per non sprecare facendo attenzione sempre appunto a una spesa giusta. Mi piace Giardina quello che ha detto, punto di vista non solo green ma anche punto di vista sociale, cioè di non dimenticare nessuno, bravo a sottolinearlo. Per le festività si prevedono 316 milioni di bottiglie di spumante stappate in tutto il mondo, un anno che si sta per chiudere, un anno ovviamente difficile, un giro di affari di 236 milioni di euro, in Italia 95 milioni per la produzione dei vini spumante. E Carlo Gancia ha a lui l'intuizione delle bollicine italiane, perché nel 1845 si trasferì stabilmente a Torino dove studiò per poi entrare all'università degli studi nella facoltà di chimica e farmacia. Poi si regò in Francia, dove insomma sapete, po' la patria per studiare la spumantizzazione e poi insomma Gancia applicò delle semplificazioni alla procedura e alla fine di velocizzare anche i tempi, di abbassare anche i costi di produzione delle bottiglie. E questo insomma, ritorniamo un po' a quello che è i giorni nostri. Vado da Spadafora, 1815 la famiglia produceva vino, continua a produrlo lei, insomma un ottimo, 1915 mi permetto di dire, andiamo più sulla parte sociale poi entriamo magari anche nel vivo. Voi esportate in tutto il mondo, Made in Italy che è praticamente segno di eccellenza, di qualità. Ecco, c'è stato un calo, c'è stato anche da parte vostra, no? Di produttori, ecco, come avete vissuto e come sta vivendo questo periodo di crisi? Sì, effettivamente il momento non è molto positivo per quello che è il nostro comparto in particolare, che comunque il vino rimane sempre un prodotto voluttuario da mettere a tavola, quindi si pensa sempre ai beni di prima necessità. C'è da dire che noi veniamo da tre anni, due anni e mezzo davvero complicati, ai quali poi si sono aggiunti anche delle problematiche produttive. Nell'ultima vendemmia abbiamo avuto le temperature che sono state molto elevate, quindi noi operiamo in Calabria, quindi può capire bene quello che abbiamo sofferto nella vendemmia, quindi la resa è sicuramente stata molto più bassa delle aspettative e purtroppo per il futuro sarà questo un po' il trend, per cui ci dovremmo anche attrezzare in tal senso. Poi l'aspetto legato all'aumento dei costi sicuramente è un altro elemento che non ci dà grandi positività per il futuro. Tenga conto che noi alla fine riusciamo come piccole aziende a trasferire solo parzialmente quelli che sono un po' gli aumenti che subiamo nel quotidiano, proprio perché abbiamo a che fare spesso con le multinazionali che producono le bottiglie, le capsule, le etichette, per non parlare poi dell'energia elettrica. Quindi diciamo molte voci di spesa, di costi, per noi diventano quasi obbligate, perché operando quasi in monopolio dobbiamo comunque accettare quelle che sono le richieste dei produttori. Quindi difficilmente riusciamo a trasferirle poi al mercato perché da un lato ci rendiamo conto che oltre certi limiti diventerebbe davvero improponibile in una situazione di mercato così stagnante o con delle prospettive non rose, dall'altro avendo a che fare anche in parte con quello che è il mondo della grande distribuzione, noi siamo molto molto piccoli rispetto a quelle che sono le logiche di questi grandi giocatori. Di quanto ha aumentato le bollette, il caro energia, quanto vi ha intoccato e quanto poi dopo a voi avete toccato i prezzi? Allora, tenga conto che come azienda noi abbiamo un po' anticipato le problematiche, quindi ci siamo sempre orientati un po' alla produzione dell'energia elettrica, quindi attraverso il fotovoltaico, quello che si è potuto fare, abbiamo sempre cercato di fare, quindi abbiamo in qualche modo ridotto questa problematica, però parliamo sempre di aumenti pari al 50-60% rispetto ai valori qualche anno fa. Di contro sull'area costi gli aumenti sono quotidiani, quindi non riuscirei neanche a quantificarli. Mediamente abbiamo aumenti ogni 3-4 mesi di 8-10 punti percentuali sui costi di produzione. E quindi se questo continua ad essere il trend nel futuro non so cosa e come bisognerà. Anche perché non è che si può aumentare poi all'infinito un continuamento anche del prodotto finale che poi dopo va sul consumatore, no? Appunto, noi capiamo bene quelle che sono un po' le problematiche a valle e quindi cerchiamo sempre di tenere in equilibrio questo aspetto, però produrre in perdita capisce bene che diventa per noi un lavoro non proponibile. Per cui siamo sempre lì a cercare di spuntare la migliore condizione possibile per evitare di poi trasferirla sui nostri listini. Per il momento ci siamo riusciti e speriamo di poter continuare in questa direzione. Andiamo a vedere il servizio che parla proprio del Natale, insomma, dei consumatori, così ci diamo un'altra chiave di lettura a questa nostra parte di trasmissione. Per gli italiani il bilancio dell'ultimo 25 dicembre è in chiaroscuro. La fine delle limitazioni sanitarie ha visto riunire più amici e parenti a tavola, ma gli aumenti generalizzati dei prodotti alimentari conseguenti al rialzo delle materie prime hanno fatto crescere la spesa, segnala il Centro Studi Conf Cooperative, del 15% rispetto allo scorso anno, passando da un totale di 2,2 miliardi di euro dello scorso anno ai 2,5 di quest'anno. Un maggiore costo di 300 milioni complessivamente che non deriva da una impennata di acquisti e dal crescente numero di ospiti, ma per lo più dalle dinamiche dei prezzi e dall'inflazione. La sostanziale tenuta del capitolo di spesa enogastronomico è confermata da Coldiretti, che anzi arriva a stimare a quasi 2,7 miliardi di euro l'esborso complessivo per i cibi e le bevande tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, che oltre 9 italiani su 10 hanno deciso di trascorrere a casa. Lo spumante, secondo l'indagine Coldiretti, si conferma come il prodotto immancabile per oltre 8 italiani su 10, assieme alla frutta locale di stagione. Per la maggioranza delle tavole è stato scelto un menù a base di prodotti o ingredienti nazionali, con una spesa e il dettaglio fornito dalla Coldiretti, i 950 milioni di euro per pesce e le carni, compresi i salumi, 550 milioni di euro per spumante, vino ed altre bevande, 300 milioni di euro per dolci e panetteria, 550 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta secca e 200 per pasta e pane. Se i fasti del pre-covidio non sono ancora tornati, il fermo obbligato per l'emergenza sanitaria ha dato però il tempo agli italiani di assaporare la qualità e questa ormai sembra irrinunciabile a tavola. Gardina, non tutto deve gravare sulle spalle dei consumatori, di chi va a fare la spesa e come possiamo contrastare questa crisi? Ovviamente contenendo, come abbiamo detto, le spese, però godendoci anche magari qualche buon cenone a casa, magari rinunciamo andare fuori e magari facciamo anche una bella spesa delle campagne che conosciamo noi, insomma, che abbiamo parlato diverse volte. Sì, quello sicuramente, diciamo noi stiamo assistendo a un fenomeno abbastanza particolare. La spesa di tutti i giorni che viene fatta negli ultimi mesi, l'abbiamo registrato in maniera molto forte, i consumatori stanno privilegiando i discount, cioè il basso prezzo, stanno un po' abbassando anche la qualità della loro scelta. Abbiamo visto che però questa tendenza si è completamente invertita negli ultimi giorni. Nei giorni di festa, invece, come se non si fosse più pensato proprio al prezzo, ma si fosse andato molto nella direzione della qualità. Quando si deve stare insieme, veramente, l'abbiamo registrato fortemente, si fa molto poca attenzione al prezzo, ma è il cibo di qualità quello che vince sempre. L'altro elemento che secondo me merita una riflessione è che molte imprese del nostro agroalimentare stanno esportando. Noi in quest'ultimo anno abbiamo registrato un record assoluto dell'esportazione, oltre i 60 miliardi di euro. Quindi stiamo in una fase in cui c'è il rischio che la qualità, il nostro made in Italy, le nostre produzioni di eccellenza, vengono più apprezzate all'estero, in America, in Cina, in Giappone, mercati che ancora resistono e sono ancora disponibili a spendere in maniera forte più che dai nostri consumatori. Giardina, scusi, la interrompo un attimo, mi scusi, abbiamo veramente un'esigenza. Ce l'ha raggiunto Anna Maria Palma di Tu Chef. Anna Maria, buonasera, benvenuta. Ecco il qua, un attimo che sistemiamo l'audio. Giardina, un attimo solo perché abbiamo poco tempo, facciamo una panoramica. Allora, Anna Maria è una chef di una scuola importante di Roma, una scuola di cucina e anche di pasticceria. Vediamo se riusciamo con l'audio, Anna Maria. Abbiamo problemi di audio, Anna Maria. Ok, allora vediamo di recuperarla con l'audio. Qualche istante, insomma, parlavamo ovviamente di quello che è il cenone, il cenone di fine anno, non possono mancare le lenticchie, lo spumante, il vino, insomma, argomenti di cui parliamo in questa puntata, inglobando ovviamente il discorso anche in una chiave di inflazione, di carobollette e insomma quello che stiamo vivendo. Ovviamente una crisi concatenata. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Ce l'abbiamo, Anna Maria? Ok, allora non ce l'abbiamo. Vediamo dopo. Allora, Giardina, mi scusi, dobbiamo ripristinare il collegamento. Allora, Giardina, stavamo dicendo... No, diciamo del rischio che le nostre imprese dell'eccellenza si rivolgano soprattutto su mercati esteri. Questa cosa può essere un problema. Sicuramente creiamo ricchezza per le nostre imprese, però se poi i nostri consumatori non richiedono la qualità e quindi si accontentano di produzione di cibi spesso che vengono da fuori, quindi con meccanismi anche di filiere molto lunghe, con prodotti che sono spesso poco conosciuti, poco e poco tracciati, questo diventa un problema anche proprio di salute dei nostri cittadini. Quindi è sempre bene ricordare che il consumo di prodotti di qualità è importante, è importante per la salute, per l'ambiente, ma anche per le nostre imprese. Lo spreco ovviamente, il riciclo del cibo, poi insomma il riutilizzo del cibo, poterne fare ovviamente una nuova veste. Sono insomma tanti trucchi, anche quelli delle nostre nonne, che non sprecavano assolutamente nulla di quello che la terra ci offre quotidianamente. Non può mancare, come abbiamo detto allora, il vino. È un giro di 8 milioni, ne parlavamo prima dello spumante, ma anche insomma il vino non è da meno perché, eccola qua, record delle vendite all'estero, un export da 8 miliardi di euro. Spadafora, com'è il nostro export del vino? Allora, per quanto ci riguarda, penso che l'Italia stia facendo davvero bene sui mercati internazionali. Noi operando in una regione come appunto la nostra, che è una regione poco conosciuta, diciamo, per lo più dal punto di vista enologico, abbiamo ancora tanta strada da fare, per cui per il futuro vediamo soltanto grandi prospettive di crescita, perché ad oggi i vini calabresi vengono consumati per lo più nell'ambito regionale e poi in ambito nazionale, soprattutto dove ci sono delle comunità di nostri conterranei. Lo stesso accade al momento all'estero. Tenga conto che tanti calabresi vivono fuori dai nostri confini, quindi sono i primi che danno anche spazio ai nostri vini sulle loro palle. Ci auguriamo che pian piano anche riusciamo a convincere i consumatori che non siano strettamente legati alla nostra regione, anche perché oggi esistono davvero dei prodotti di grande qualità, parlavamo prima appunto del po' Giardina che mi ha preceduto, la qualità nell'ambito enologico e espressione sia dal punto di vista organolettico ma anche dal punto di vista sanitario. Ma anche del territorio. Spadafora, un attimo solo perché abbiamo recuperato Anna Maria Palma, ma a questo voglio approfondire nella seconda parte, insomma io mi faccio volentieri il tramite di quello che stava dicendo e poi glielo spiego bene. Anna Maria, ci sei? Eccoci, allora perché abbiamo avuto Anna Maria che è una nostra amica e oltre una grandissima chef? Per capire quello che in questo periodo dell'anno è cruciale, il fatto di non sprecare cibo, insomma andiamo verso un cenone, quindi ti faccio due domande in una, so che hai poco tempo, allora innanzitutto quello che può essere in questo periodo riutilizzare dei cibi e non buttarli e poi dopo verso il cenone, quello che possiamo fare in casa per quanto riguarda la tradizione nostra italiana? Beh, guarda, io direi una cosa che intanto lo spreco, non bisogna farlo ed evitare di farlo solo in questo momento, ma andrebbe proprio tenuto conto di poterlo fare tutto l'anno. Realmente in cucina si può riciclare di tutto, abbiamo i nostri frigoriferi che normalmente sono strapieni e puntualmente poi purtroppo andiamo a gettare prodotti che vengono in scadenza o quant'altro. Io direi che anche per il cenone, anche se è sempre di buon auspicio, utilizzare anche prodotti di alta qualità, io direi che se ci soffermassimo un pochino di più su quello che realmente sono anche le nostre tradizioni, io ecco abbiamo detto in questo periodo i legumi, sappiamo che la lenticchia l'ultimo dell'anno non può mancare sulla nostra tavola, scegliamo delle lenticchie nostrane, ne abbiamo di ottime qualità e veramente produzioni eccellenti, abbinandole se vogliamo non solo alla carne, che è classico magari utilizzare il codichino, lo zampone, ma anche con il pesce, se vogliamo utilizzare anche il pesce potremo utilizzare tranquillamente dei pesci azzurri, ricordate che il pesce azzurro non solo è decisamente più economico di tanti altri pesci, ma è di grandissima qualità a livello nutrizionale, per esempio fare anche delle albrici in buchite e doverle abbinare ad una lenticchia è veramente eccezionale, e così anche per esempio potrebbe essere utilizzato maccarello, ovvero dello sgombro, adesso è il periodo dei carciocchi, anche metterlo con i carciocchi, veramente si apre un mondo alla fantasia, io dirò, mettere di pregio anche economico, sì, è piacevole, ma guardate, il gusto con poche cose di qualità va bene anche nella semplicità, questo è il mio parere, abbiamo adesso sul mercato un brocco di cerebrale di caccia che si possono utilizzare sia con la carne, con il pesce, con la pasta, per cui magari fare anche delle paste ripiene con i brocchi, mi sto premendo, perché adesso fra poco inizierà poi a preparare anche me, per cui se posso essere utile, io sono qui. L'ultimissima che ti chiedo, Anna Maria, insomma cosa dici ai tuoi allievi? Oggi si parla tanto di cucina, abbiamo anche noi una trasmissione che parla di cucina, se ne parla tanto in tv, se ne parla nei talk, se ne parla in radio, tutti vogliono diventare chef, ecco, nella tua scuola cosa dici ai ragazzi anche che vogliono diventare anche pasticceri, insomma, dedizione, cultura, ma soprattutto rispetto per il cibo? Allora, la cosa più importante intanto è la conoscenza, e tu sai benissimo Gianluca quanto io possa tenere a distruirli, distruirli non solo nel lato pratico, ma proprio nella conoscenza della materia prima, dei prodotti, delle tecniche, per cui sia delle tecniche di cottura che delle elaborazioni del cibo. E poi, al di là di poi mettere in pratica manualmente quello che viene insegnato, chiedo un po' di perseveranza, quello che oggi i ragazzi un pochino tendono a scemare, proprio sulla grinta, sulla forza di andare avanti. E questo io per me è una cosa che io tengo tutti i giorni ad incentivare i ragazzi in questo. Le difficoltà nella vita ce le abbiamo tutti, tutti passiamo dei momenti forse anche un pochino difficili, però dobbiamo pensare che c'è una richiesta incredibile e di un'offerta lavorativa non indifferente. Allora io quello che dico ai ragazzi, se una cosa credete, vi piace, impegnatevi, ed è importante non perdere la forza. Io dico sempre che sarà che sono innamorata di quello che faccio. Io quello che faccio, insomma, e lo sappiamo perché l'abbiamo sentita tante volte, abbiamo problemi di collegamento, insomma, però la salutiamo, la ringraziamo, Anna Maria Palma di DuChef Giardina, qualche altro minuto che ci può dedicare o ci deve lasciare? No, no, assolutamente, sono a disposizione. Benissimo. Questa cosa delle lenticchie e dei legumi è importantissima, i legumi locali, noi riusciamo con la coltivazione dei legumi a tutelare delle aree interne importantissime, sia dal punto di vista economico e sia anche dal punto di vista agronomico. La coltivazione di tutte le leguminose e le lenticchie in particolare sono fondamentali per la cura del suolo e quindi consumare lenticchie italiane favorisce anche la produzione di lenticchie e quindi anche le nostre qualità ambientali e la fertilità del suolo. La tengo lì perché mi dà lo spunto per la seconda parte. Allora Spadafore ci dice come abbiniamo un bel vino sulle legumi del cenone del 31 e vediamo anche a livello nutrizionale quanto fanno bene i legumi. Rimanete lì, a tra poco. Abbiamo parlato dell'importanza dei legumi. Allora, prima di passare a Spadafore, do la buonasera e benvenuta a dottoressa Sara del Papa, nutrizionista biologa. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, la domanda sui legumi alla vado da Spadafore, così chiudiamo il cerchio prima. Che vino possiamo abbinare sulla tavola il 31 assieme a un bel legume? Spadafore, ovviamente o rosso. Allora, io sono amante dei vini rossi perché comunque il nostro vitigno cardine è il Magliocco che è un vitigno molto, diciamo, generoso nel darci grandi vini rossi. Però trattandosi di un legume così delicato come appunto la lenticchia, visto il periodo io consiglierei di utilizzare un bel vino rosso novello, molto morbido, fruttato, piacevole, con dei tannini abbastanza delicati che tranquillamente si abbina molto bene a una zuppa di lenticchia, magari anche se c'è un po' di cotecchino vicino, non va male. Non va male, non guasta. Allora, la Sala del Papa, ovviamente la puntata ha avuto queste feste di natalizie, sul cenone e quindi c'è tutto un mondo che vogliamo sapere. Allora, innanzitutto l'importanza dei legumi nella nostra dieta mediterranea, quanti ne vanno mangiati al di là del 31 di dicembre, un po' tradizione. Però ecco, a volte forse si predilige più la carne che il legume, perché va introdotto? Ecco, per quali motivi e quante volte a settimana? Ma infatti la categoria dei legumi è spesso dimenticata a tavola e magari c'è anche il comune errore di categorizzarli come alimento prettamente invernale, quando invece può essere utilizzato in qualsiasi tipo di stagione. Il legume, se ci riflettiamo, è l'unica fonte proteica di natura vegetale, perché quali sono gli alimenti che danno proteine al corpo? È la carne, il pesce, le uova, i formaggi e i legumi. Quindi le quattro categorie che ho citato prima sono tutte di origine animale, il legume invece è l'unica categoria di origine vegetale. Le linee guida, la piramide alimentare, consiglia di assumerne almeno due porzioni a settimana, ma si possono anche consumare quotidianamente tutti i giorni e utilizzando naturalmente le tipologie diverse, quindi lenticchie, ceci, fagioli di ogni tipo, piselli che spesso magari vengono considerati verdura, invece no, sono comunque legumi e fava quando di stagione ci cerchia. Certo. Ok, vado su Giardina che ci deve salutare. Allora, veramente in 30 secondi, quale sarà la direzione 2023? Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, come si suol dire, però il lavoro vostro è quello continuo sul territorio, nel valorizzare quelle che sono le materie prime, nel valorizzare le aziende del nostro comparto alimentare, nel dar valore a quello che è il lavoro degli agricoltori. Noi in questo momento, beh, oltre tutta la questione dei cambiamenti climatici, che sono veramente l'emergenza numero uno che noi abbiamo, il comparto agricolo è quello che dal punto di vista economico è quello che maggiormente soffre per quel che riguarda i cambiamenti climatici. Abbiamo all'orizzonte due battaglie campali che Coldiretti sta portando avanti. Da un lato il cibo sintetico, cioè lo sviluppo di fabbriche che vogliono produrre del cibo partendo soltanto da aggregati di proteine. Questa è una cosa completamente lontana dal mondo agricolo e separare il cibo dall'agricoltura è uno dei più grossi errori che noi possiamo fare. Coldiretti ha raccolto già 350.000 firme per evitare che il cibo sintetico entri nelle nostre tavole. Questa è una battaglia importantissima che Coldiretti nel prossimo anno continuerà a portare avanti. L'altro grosso rischio che noi abbiamo è l'etichetta Nutri-Score che l'Europa vorrebbe imporre e anche questo andrebbe a danneggiare in maniera molto importante il nostro agroalimentare con dei bollini rossi che caratterizzerebbero i nostri prodotti, le nostre eccellenze perché con troppo sale, con troppi grassi, senza considerare l'equilibrio di tutta la dieta. Queste sono le campagne che Coldiretti porterà avanti nel prossimo anno e speriamo che anche queste come altre campagne che poi Coldiretti ha portato fino in fondo riusciranno a far valorizzare sempre di più la nostra produzione agroalimentare. Giardina lo sa, tanto nell'altra trasmissione di Green noi ci vediamo una volta al mese ne abbiamo parlato anche al Parlamento Europeo con l'onorevole Enel Anizzi di Didi abbiamo parlato appunto di questo, Nutri-Score, il semaforo, il cibo col semaforo è tutta una serie di situazioni, quindi magari diamo appuntamento alla prossima puntata a gennaio su questo. Grazie, auguri, buone feste. Grazie mille, a voi, arrivederci. Grazie, grazie, sempre disponibili Coldiretti. Sala del Papa, andiamo un attimo fuori il binario poi torniamo subito visto che c'è introdotto un tema molto delicato sul cibo, cibo sintetico, una roba veramente agghiacciante. Esatto, quello che è un po' la guida per le nostre scelte consapevoli anche banalmente cosa mettere nel carrello, l'etichetta alimentare ci aiuta tantissimo più un cibo diciamo, anzi meno ingredienti sono presenti nella lista degli ingredienti appunto e più un cibo è genuino e quindi può essere considerato sano tra virgolette. Poi cercare di semplificare questa etichetta con dei bollini potrebbe essere come diceva appunto l'altro invitato potrebbe essere anche un pochino, non è molto chiara come cosa perché ecco, sì, viene magari etichettato con un bollino rosso perché contiene sale, grassi saturi ma poi non si tiene conto del bilancio quotidiano perché se io utilizzo comunque solo quell'alimento che contiene un po' più di sale non succede niente, l'importante è non eccedere all'interno della giornata, della settimana e dell'alimentazione quotidiana di tutta la vita. Allora, la sala del papa, ovviamente la nutrizione all'interno di una giornata, all'interno poi quindi che è un ciclo, diciamo, no? E poi all'interno della settimana, ciclo più ampio fatto di sette giorni, come ci siamo detti anche più volte ci devono stare tutti, diciamo, gli elementi, il proteine, i grassi, i carboidrati, le fibre, eccetera, eccetera, nell'arco della giornata e nell'arco della settimana. Questo per avere una, diciamo, un'alimentazione completa. Come giustamente dicevamo, magari quel semaforo è rosso, ma in base a cosa? Magari è rosso per un certo tipo di elemento, ma poi dopo magari è ricco di altro. Cioè dobbiamo un po' capirci anche qualcosa, questo lo deve dare la politica, però io veramente insomma sarei molto molto scettico andare a comprare un alimento che abbia quel semaforo o quell'altro, magari insomma facciamo una spesa un po' più così eterogenea e possiamo mangiare di tutto. Vado sul discorso del vino. Allora, e qua entro un po' nel dettaglio, perché il Magliocco, vino rosso nel 1915, insomma Spadafora è stato eletto come uno dei migliori vini. Fino al 2000 nessuno lo produceva, visto che ne avevamo parlato prima di quest'uva. Solo la cantina Spadafora nel 1915 di Tonnici lo produceva. Allora questo perché? Io glielo dico in tutta sincerità. Io fino a due o tre anni fa non conoscevo l'esistenza dei vini calabresi. Ne avevo forse mai bevuto. Poi mi sono regato in Calabria per vacanza e mi si è aperto un mondo. Ma veramente un mondo. Insomma adesso li ho provati quasi tutti e insomma ecco perché questo Magliocco se ne produceva poco. Perché non si aveva la conoscenza di quest'uva da voi va tanto nella parte del crotonese, anche il cirò va tanto. E si conosce quello forse più a livello italiano. E posso confermare malgrado, purtroppo dobbiamo dirlo, che si fa fatica, noi abitiamo a Roma, si fa fatica insomma nelle enoteche avere anche i vini calabresi. Allora vabbè li possiamo ordinare sempre online, attenzione, oggi si può arrivare ovunque. Però anche dici assaggiamo un vino si deve andare sul posto. Ecco questo perché? Allora c'è da dire che, come dicevamo prima, nell'ambito del territorio regionale il Magliocco è un vitigno che per tanti anni è stato confuso anche con il Gagliocco. Con il Gagliocco, sì, che è quello che va per la maggiore in Calabria, si chiama il cirò. Sì, sì, infatti anche nei disciplinari di produzione delle vecchie DOP, noi siamo a Donnici, un piccolo paese sulle colline intorno alla città di Cosenza, il Magliocco si è sempre coltivato, però sui disciplinari troviamo scritto il Gagliocco localmente detto Magliocco. Quindi non si era capito invece che, proprio scientificamente, si tratta di due vitigni completamente differenti. Tant'è che il risultato finale delle due vinificazioni porta a dei vini che hanno dei descrittori organolettici differenti tra l'area ionica del cirò e l'area, diciamo, tirrenica del cosentino. Poi la visibilità del vitigno si è accresciuta negli ultimi anni successivamente alla costituzione di una nuova denominazione che oggi si chiama Terre di Cosenza, che ha aggregato tutte le piccole DOP presenti nell'area provinciale. Quindi lo stare insieme, aver aggregato tante piccole produzioni delle diverse aree, oggi ci consente di avere una maggiore visibilità sul mercato perché abbiamo costituito questo consorzio di tutela che si occupa soprattutto della promozione di questo vitigno e quindi ci siamo identificati proprio come territorio, come Terre di Cosenza, nella divulgazione e nella promozione di questo vitigno che noi vinifichiamo davvero in mille modi. Pensi che siamo riusciti a realizzare anche un vino bianco prodotto da uve magliocco che è un vitigno a bacca nera, è un vino che si chiama Magaria, è un termine dialettale, appunto calabrese, da magia quindi la magia di aver potuto creare da un vino, da un'uva bacca nera, un vino bianco quindi con una caratteristica totalmente diversa dai vini bianchi che siamo abituati. Guardi, io mi sono portato su della sua azienda Rosa Spina che è un rosè quindi insomma la conosco, ecco, non tutta, quindi la devo provare nel territorio Avremo modo di farle assaggiare anche il resto, non è un problema Ok, però insomma il rosè sta andando tanto adesso, anche dalle parti vostre Sì, diciamo che il rosè sta crescendo molto il rosato Perché è un vino molto flessibile, si lascia abbinare a diverse pietanze dal pesce, alle carni, ai primi piatti, ai salumi, ai formaggi Insomma è un vino che ha una grande possibilità di abbinamento In particolare il Rosa Spina, che lei ha citato, è un vino al quale siamo legati affettivamente perché nasce da un progetto solidale, perché il Rosa Spina sostiene un'associazione che si chiama Una mano sul cuore, che si occupa di fare informazione e prevenzione per le malattie oncologiche femminili, quindi il ricavato della vendita di questo vino noi lo destiniamo a questa associazione, quindi con grande orgoglio oltre che un grande vino rosato, però sosteniamo anche questa causa sociale Ma è una bella bottiglia anche opaca, sigrinata, quindi insomma anche molto elegante Quindi insomma Abbiamo cercato di curare anche il pacco per trasferire questo senso di freschezza già mettendolo al tavolo, ti dà questa voglia di bere Va bene, insomma, vi sto permovendo, ma insomma l'ho assaggiato personalmente Sala del Papa, il vino fa bene o il vino fa male? Il vino fa bene con le giuste dosi naturalmente Sono due le unità alcoliche, diciamo, consigliate per il sesso maschile e un'unità alcolica per il mondo femminile Ecco, quindi rimanendo un po' su queste porzioni perché no, comunque è assolutamente presente nella cultura mediterranea nella cultura della dieta mediterranea Ok, quindi si può bere, un bicchiere a cena si può bere nell'arco di un'alimentazione controllata Adesso poi un po' dopo il privato mi ammazza, lo so Assolutamente sì A meno che ecco la persona non ha problemi di salute a livello soprattutto epatico Allora, ecco, magari cercherei di ridurlo al minimo quasi ad eliminarlo o è in gravidanza e allora lì assolutamente sconsiglio l'utilizzo del vino, però per il resto assolutamente sì Sono arrivata a bilanciare sei calici di vino ma l'ho dovuto fare perché era un sommelier e quindi lui mi ha detto ogni venerdì io incontro le aziende perché rinnovo la carta dei vini e quindi è necessario che io assaggi questi vini e siccome sono vini di alta qualità di sicuro non li vado a sputare, no? come fanno i sommelier e quindi mi sono messa lì e sono riuscita a bilanciargli sei calici di vino Al giorno? Solo il venerdì Gli altri giorni diciamo che ce n'aveva uno Allora Sara del Papa è un'ottima professionista che bilancia le alimentazioni non le definiamo diete, vero? Sono alimentazioni personalizzate Sì, piani nutrizionali e guide sono guide nutrizionali personalizzate Sì sì Perfetto, ok E allora Sara ovviamente c'è un eccesso in questi giorni di tutto ecco cosa bisogna fare? Allora io un po' ho imparato non si digiuna, prima cosa secondo, mangio solo frutta? No Cosa bisogna fare in questi giorni di recupero e poi dopo ricominciare una normale vita perché ci siamo un po' appesantiti a queste giornate Beh, il concetto è quello di compensare nel senso che magari ho abusato di dolci e carne ecco qui che rientrano proprio i citati legumi perché? Perché intanto ci danno un bilanciamento tra le proteine animali della carne e le proteine vegetali appunto del legume il legume è botanicamente un seme quindi è abbastanza completo di tutti i nutrienti e mi fanno da piatto unico mi scaricano l'energia diciamo assunta nel pasto libero del giorno di festa ma allo stesso tempo mi danno sazietà quindi non faccio la fame non affamo il mio corpo perché il digiuno se io salto il pasto per recuperare le calorie in eccesso affamo il mio corpo e il giorno successivo rischio di andare a mangiare ancora una volta di più rispetto al mio fabbisogno invece compenso do un pasto che è equilibrato a basso impatto energetico quindi più proteico la proteina ci deve stare sempre eh sì è l'unico nutriente di cui non abbiamo un deposito quindi va proprio assunto quotidianamente e distribuito bene nell'arco della giornata in modo tale da massimizzare il suo assorbimento quindi mi mangio una mela dopo aver insomma aver mangiato molto a pranzo nel pranzo diciamo dopo il 31 quindi il giorno dopo o il pranzo dell'uno la sera dell'uno mi mangio una mela così sono leggero assolutamente no la base proteica ci deve stare lo stesso questa è la rena è consigliabile perfetto allora torno un po' su questa casa che sta facendo veramente molto bene che ha in sé la tradizione di una regione una regione che ha sia la parte del mare tiranica ionica sia la parte delle montagne Spadafora c'è un vino che mi ha colpito che è il Narello che è molto scuro molto scuro molto intenso come sapore adesso senza non sono un esperto assolutamente però un po' mi ricorda il ciliegiolo di Narni perché è molto scuro è molto olfattivo cioè si sentono molto anche tanti tanti sapori tanti profumi più che altro dentro ecco un Narello vicino che è particolare e buonissimo su che si può abbinare anche sul pesce visto che è così delicato o no? allora ultimamente c'è una tendenza ad abbinare anche i vini rossi a pietanze di pesce francamente non condivido molto questo tipo di abitudine che si sta in qualche modo sviluppando anche perché dobbiamo ricordare che l'abbinamento deve essere sempre pensato per equilibrare poi alla fine il gusto che abbiamo in bocca è un vino tannico con diciamo degli elementi proprio di alcolicità come il Narello in particolare è appunto un blend di Narello calabrese e greco nero 80% e 20% con affinamento in barricchie per 6 mesi quindi capisce bene che questi sentori legati anche al passaggio in legno poi li ritroviamo anche nel calice nel momento in cui degustiamo un vino con queste caratteristiche dobbiamo abbinare anche una pietanza che abbia una medesima struttura di sapore altrimenti rischiamo di sovrastare completamente il gusto della pietanza delicata come il pesce e quindi continuare a masticare il vino e non la pietanza qualora ci siano delle avversità ai vini bianchi quindi magari qualcuno abbia voglia di bere un vino rosso deve cercare di trovare dei rossi che abbiano dei rossi giovani che non abbiano grandi di canino che vadano sicuramente ad equilibrare quello che è il gusto del piano però forse il rosè forse è quella giusta via di mezzo no? allora il rosato sicuramente si presta in modo molto molto indicato con una pietanza di mare che sia in bianco alla griglia o anche in umido con un po' di pomodorini quindi tranquillamente il rosato sostiene questo tipo di cucina ma ritornando ai rossi per non parlare dei bianchi che sono diciamo l'abbinamento ideale però per esempio noi abbiamo creato un rosso che viene prodotto con una tecnica che si chiama trio macerazione ovvero contatto con la buccia a bassissima temperatura e separazione dei tannini già in fase di vinificazione che è praticamente un rosso che ha solo il colore del rosso però i profumi sicuramente però noi in bocca lascia soltanto questa bella nota di frutta appunto tipo i mirtilli lamponi e non ha assolutamente nessuna stringenza e quindi questa cosa lo rende abbinamento ideale anche con le pietanze di mare oh ma passo a un altro discorso i cambiamenti climatici hanno un po' cambiato il modo di fare vino hanno cambiato un po' anche questi odori questi profumi perché sappiamo tanta siccità d'estate tanta pioggia e alluvioni d'inverno siamo veramente in un clima tropicale quindi anche i vini le uve più che altro hanno subito delle chiamiamole modifiche attenzione cioè dei cambiamenti allora diciamo che la vite è abituata a sottrire perché è una pianta che prende le proprie energie dal profondo del terreno quindi comunque riesce a sopravvivere anche in condizioni ambientali abbastanza complicate c'è da dire che l'aticità quindi il caldo incide sicuramente nella vegetazione prima e nella maturazione per cui nel futuro dovremmo sicuramente confrontarci con questi cambiamenti tant'è che stiamo anche valutando di impiantare dei vigneti laddove in passato assolutamente non era auspicabile andare a ipotizzare un po' si sperimenta si sperimenta un po' si va aumentando sicuramente le altitudini e spostandoci magari dai 300-350 metri attuali ai 450-500 di quelli che saranno i nuovi impianti del futuro Sala del Papa parliamo ovviamente di vino qua parliamo di made in Italy parliamo di territorio ogni territorio a sé insomma si posso dare del tu vivi in una zona bellissima come le Marche che è ricca sia di rossi che di bianchi sia la parte dell'entroterra che è stupenda sia la parte ovviamente sulla costa anche lì sono due mondi veramente diversi e c'è tutto tutto il territorio vanno rispettate le tradizioni assolutamente durante queste feste abbiamo parlato prima dei legumi ecco si va anche da voi più sulla carne più sul pesce a seconda del territorio oppure durante queste feste insomma è tradizione il 31 in una maniera l'una in un'altra e poi dopo dal 2 in poi visto che lunedì si ricomincia dal lunedì mi metto famosa frase mi metto a dieta però ecco possiamo dire che le diete cosiddette drastiche non vanno bene c'è bisogno di un equilibrio nell'alimentazione assolutamente sì perché il cibo è salute è fonte di nutrimento e quindi di nutrienti per il corpo ma è anche piacere è cultura è tradizione è convivialità quindi assolutamente sì vanno rispettate le tradizioni con moderazione nel senso che anche perché una persona che comunque segue un'alimentazione equilibrata quando poi si trova a tavola e va a fare il tradizionale pasto libero quindi nei giorni diciamo rossi del calendario quindi la sera della vigilia il pranzo di Natale il pranzo di Santo Stefano e così via il corpo che è stato abituato ed educato a sentire ad ascoltare i nostri segnali fisiologici della fame e della sazietà ci aiuterà anche in quei momenti a ok goderceli ma con moderazione nelle marche diciamo che ci sono dei dei prodotti tipici vabbè il giorno di Natale non possono mancare a tavola le olive alla scolana quindi anche un po' di frittura le lasagne che noi diciamo definiamo vinci sgrassi e poi c'è un un dolce tipico di Natale io ormai sono mezza romanizzata quindi magari queste cose negli ultimi anni le ho perse le ho perse un po' però questo dolce tipico si chiama fristingo lo fristingo che è fatto con fichi secchi frutta secca è un dolce povero dove appunto si utilizza frutta secca ed essiccata con cacao quindi molto denso a livello calorico però con ingredienti molto semplici ed economici ma molto calorici questo dobbiamo dire molto calorici molto calorico guarda ti dico che a Roma è un dolce simile si fa poi con un po' di farina e col miele da quello che ho capito è lo stesso una sorta di panetto lo faceva mia nonna è un po' pan pepato si chiama e c'è anche nella tradizione romana con tutta frutta secca in particolare i fichi va bene va bene allora in chiusura allora qua abbiamo spaziamo da una parte all'altra dell'Italia ed è bellissimo così spada fora insomma nonostante la crisi si va avanti questa notizia positiva bisogna un po' esportare di più i prodotti i prodotti locali sicuramente c'è l'e-commerce c'è la possibilità di comprare direttamente dal fornitore però bisogna poi assaggiare questo il vero il vero problema anche perché insomma si fanno veramente dei prodotti di altissima qualità poi dopo un'altra puntata magari in privato insomma si può abbinare dal ghiaglioppo il greco nero il magliocco insomma si possono anche unire questi vini io penso che già l'avete fatto c'è un vino così si si noi sperimentiamo sempre cerchiamo di trovare dei blend per equilibrare sempre al meglio quelli che sono i risultati finali abbiamo sicuramente dei vini prodotti con il monovitigno quindi il magliocco in purezza il greco nero la malvasia però per esempio uno dei nostri vini più gettonati è un blend tra un vitigno autoctono appunto come il magliocco e un vitigno internazionale che è il merlot quindi questo equilibrio di diciamo di sapori hanno conferito a questo vino un grande risultato commerciale bene 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 e allora grazie grazie veramente riporto spadafora insomma di esportare il se vuole possiamo parlare anche dei dolci calabresi non ho problemi eh velocissimo 30 secondi perché sono famosi sempre i tartufi ma non è solo quello lì via pizzo ecco prego assolutamente diciamo che il tartufo è una parte diciamo estivo il gelato però al periodo delle festività da noi per esempio ci sono dei dolci a base di frutta secca come la pitta ambigliata che è un prodotto di un paese nella zona appunto di San Giovanni in Fiore vicino sulle montagne della Sila dove praticamente si usano il miele il miele di fichi il miele d'api con una serie di frutta secca che viene messa dentro un prodotto buonissimo per non parlare poi dei turdilli cosentini che sono dei dolci fritti e poi vengono avvolti dal vino cotto e dal miele di fichi insieme quindi a questo naturalmente abbiniamo anche i nostri vini passiti per cui cerchiamo di seguire anche le tendenze del periodo grazie buone feste e poi lo spadafora grazie per averci illustrato insomma abbinamenti vi abbiamo dato tante idee anche di regali di poter regalare anche dei vini dei calici insomma dei prodotti tipici insomma vincotto ne sa qualcosa Sara del Papa visto che è marchigiana allora Sara l'ultimo consiglio prima di salutarci dopo le grandi mangiate insomma equilibrio questa è la parola? equilibrio e rientro rientro nel piano nutrizionale o comunque nelle indicazioni generali che una persona ecco sa e da subito quindi non dal classico lunedì dal 27 di dicembre già da due giorni dovremmo essere tutti già rientrati nei nostri equilibri personali grazie a Sara del Papa nutrizionista grazie Sara alla prossima buon lavoro buona serata e buone e buone feste termina qua questa puntata di Redonna oggi prossima settimana di nuovo a Bruxelles un viaggio speciale e poi di passo in passo sempre dietro le notizie grazie e da parte ovviamente nostra auguri buone feste ancora di nuovo a Bruxelles di nuovo a Bruxelles di nuovo a Bruxelles